Ciao a tutti tifosi e tifose, benvenuti in questo nuovo video. Domani, ahimè, come mi aspettavo, sarà una gara da dentro fuori contro due squadre in difficoltà magari in maniera diversa. La Croazia ha vissuto anni fantastici fino a pochi anni fa però è evidente che non ha un cambio generazionale degno di questo nome per fare un esempio, da Mandzukic sono andati a finire con Petkovic e Budimir che non lavorerei neanche alla peggior squadra che ha messo sulle balle. Giocatori fenomenali, purtroppo stanno andando sul viale del tramonto altri non sono stati neanche convocati, è una difesa a parte Guardiol che a me non fa impazzire, non ne ho considero un difensore fantasmagorico è una difesa scarsa comunque di basso, di medio livello quindi se noi, se l'Italia fosse una nazionale quantomeno decente direi, vabbè, si può battere. Il problema è che noi siamo scarsi, siamo una squadra mediocre e quindi faremo molta fatica anche con la Croazia anche perché vedo gente ancora che pensa che domani sarà una qualificazione facile no, dio mio, no noi siamo una nazionale che è da 14 anni che prende schiaffi in faccia e la gente ancora questo non l'ha capito domani se passiamo, non è che abbiamo fatto il nostro dovere abbiamo fatto di più di quello che possiamo fare per me la nazionale italiana è a livello di Scozia, Repubblica Ceca, Romagna che gioca anche meglio, di quel tipo di nazionale lì e c'è gente ancora che dirà e siamo l'Italia quindi se passiamo agli ottavi abbiamo fatto il nostro dovere no, se domani noi passiamo abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacco abbiamo fatto di più di quello che potevamo fare ma la gente ancora non ci arriva a questa cosa qui perché poi faremo fatica con una Croazia che anche lì è una Croazia che ripeto è una squadra in difficoltà è una squadra che ha finito il suo ciclo e purtroppo non so quando ritornerà perché non hai chissà quanti croati fenomenali giovani che stanno avanzando così come noi non abbiamo giocatori giovani e forti che avanzano da praticamente 14 anni che poi sarebbe forse 18 anni perché la mondiale è del 2006 sarà una gara difficile anche perché i croati quei popoli lì insomma di quelle zone lì magari tirano fuori un carattere forte e duro soprattutto nei momenti di difficoltà magari non si lasciano intimorire come magari possiamo fare noi poi secondo che io vedo l'Italia una nazionale veramente pessima la considero un po' come le provinciali della nostra serie A che magari contro le big non come la Spagna ecco non come è successo con la Spagna ma magari contro le big ti fa quella prestazione importante o magari nei tornei come abbiamo fatto noi agli europei ti fa quel torneo importante degno di nota ma poi con le squadre di pari livello va a perdere 2-3-0 per me l'Italia è questa qui una nazionale che negli anni perde con la Svezia perde con la Macedonia perde pareggio 0-0 con l'Irana nel nord 1-1 con la Bulgaria va a prendere scopo nelle qualificazioni con l'Inghilterra eccetera la nazionale è mediocre però l'europeo il National League arriva sempre avanti l'europeo adatti di vedere storicamente succede spesso che lo vincono squadre che non devono vincerlo e poi la National League è un torneo che vale di più probabilmente il torneo che fai su FIFA che la National League quindi è una gara che vedrei bene se fossimo una nazionale di centro non lo siamo quindi sarà una gara tosta io mi aspetto poco non aspetto niente ma sono già deluso se passiamo i gironi bene sono contento ma comunque il mio pensiero sull'Italia non cambierà anche se domani dovessero vincere 8-0 se veniamo eliminati potrò dire purtroppo di aver avuto per l'ennesima volta ragione di non avere fiducia in una nazionale che reputo altamente altamente scarsa insomma siete affidi ancora a Nel Sciaragui dopo dieci anni e passa a Scamacca che ha fatto bene in carriera un anno e mezzo a Chiesa che purtroppo dopo l'infortunio grave non ha più fatto chissà che cosa siete affidi a Di Lorenzo se ti affidi a gente emergente comunque discreta che però devono rimassare tanto come Callafiori buongiorno eccetera se ti affidi al centrocampo solo a Barella capisci c'è ancora Cristante per esempio capisci che qualcosa è andato storto il problema è che sono cose storte le cose le cose vanno storte da 14 anni e passa e la gente ancora dice noi siamo l'Italia noi siamo questi noi siamo questi sì di nome noi siamo l'Italia ma ormai non siamo più l'Italia nel senso proprio purtroppo concreto del termine siamo solo l'Italia che fu una grande squadra una grande nazionale purtroppo decaduta e purtroppo non vedo anche chissà quali miglioramenti da qua nei prossimi anni insomma domani se vinciamo passiamo il turno faremo di più di quello che l'Italia può fare comunque il compitino se l'Italia non passerà il turno purtroppo si avverrà quello che ho sempre pensato anche nei mesi precedenti un saluto al prossimo video ciao ciao